Oggi dedichiamo la nostra attenzione a Paolo Bonolis, il presentatore che ha svelato alcuni dettagli intriganti sulla sua vita personale. Parliamo del ritorno di Ciao Darwin, in onda dal 24 novembre su Canale 5, e come sempre, non ci tiriamo indietro dalle domande sulla sua sfera privata. Paolo Bonolis, 62 anni, ha affrontato l'argomento della sua separazione da Sonia Bruganelli, madre di tre dei suoi figli, con la sua solita ironia. Bonolis ha accennato che potrebbero verificarsi dei cambiamenti tra lui e la produttrice 49enne. Al momento, sembrano essere in ottimi rapporti, ma il futuro è sempre incerto. Bonolis sottolinea con una punta di sarcasmo, la vita è ricca di sorprese. Durante la conversazione, abbiamo anche ascoltato le parole di Sonia, che ha dichiarato, ci siamo separati per proteggere i nostri figli. Trovare qualcuno come lui è difficile. Lui è sempre presente. Possiamo separarci da un corpo, ma non da un'anima. Paolo Bonolis risponde con il suo stile inconfondibile. E cosa dovrei dire ora? Ha già detto tutto lei. La vita è così. Ci adattiamo a ciò che cambia. Hai sentito? Sono sempre lì. Vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale, se non lo avete ancora fatto, lasciate un like se questo video vi è piaciuto, e non dimenticate di commentare con le vostre opinioni su questa interessante vicenda. Grazie per averci accompagnato su, Notizie e Gossip, dove ogni giorno portiamo a voi le ultime notizie e i pettegolezzi più intriganti. Ci vediamo al prossimo video. Ciao.